Qual è il superpotere che la psicoterapia permette di sviluppare? In un precedente video che ho chiamato perché lo psicologo non parla di sé, ho citato le neostrutture terapeutiche. So essere un termine psicologhese, però sono una cosa molto concreta. È una sorta di dialogo interno che il paziente sviluppa tra sé ed il terapeuta, ovviamente nella sua testa, e che viene utilizzato per poter ragionare su situazioni, su eventi, su occasioni e che il paziente utilizza per poter direzionare le proprie scelte e guidare il proprio agire. Quindi è come se proiettasse nella sua testa il proprio dialogo, quindi la propria seduta di terapia con l'idea che ha del terapeuta e utilizzasse questo per capire come meglio muoversi e come meglio comportarsi. Ora, per come e perché questo è collegato al fatto che lo psicologo non debba parlare di sé, ti rimando al video. Però, tornando a noi e approfondendo, qual è il superpotere che il paziente sviluppa? Non è tanto la neostruttura terapeutica, ma questa è una piccola parte. Ciò che va a sviluppare dopo caratterizza il vero superpotere. Quello che avviene solitamente dal ventesimo incontro in poi, e non in tutti rispetto alla mia esperienza, è la capacità di sviluppare un dialogo interno evoluto, cioè un dialogo interno che da un lato permette di confrontarsi con se stesso o eventualmente con la proiezione del terapeuta, ma al tempo stesso permette anche di muoversi tra due punti di vista diversi. E questo è il vero superpotere. I due punti di vista diversi sono quello in prima persona, quello che inevitabilmente assumiamo alla mattina quando ci svegliamo e viviamo la nostra quotidianità, quello che io ho in questo momento mentre registro il video, e un punto di vista invece esterno, superiore, quasi strategico, scollegato dalla situazione posta un po' più in alto, che osserva e non solo valuta ciò che il paziente, la persona sta facendo, ma è in grado anche di andarne ad influenzare il comportamento mentre la persona sta agendo il comportamento. È come se permettesse la persona di avere una visione del protagonista, una visione in primo piano appunto, ed una visione sulla mappa, una visione anche generale, generica di quello che sta succedendo, una visione che permette di capire qual è la sua posizione all'interno della scacchiera del mondo e non solo viverla appunto con il punto di vista del protagonista, che invece è, come dire, per definizione limitato, limitato da il cono di luce e di attenzione che noi possiamo agire e porre sul mondo. Questo che cosa permette di sviluppare nella persona? Una maggiore consapevolezza, ma soprattutto una maggiore serenità nell'affrontare le situazioni, perché riesce a vedere e capire qual è il punto che occupa all'interno del suo tragitto di vita e permette quindi di andare a scegliere e compiere appunto delle azioni e dei comportamenti che sono funzionali ai suoi obiettivi sul lungo periodo e non nel breve periodo, meglio non guidati dalla emotività del momento. Non è infatti insolito che la persona, dopo una vintina di incontri circa, mi dica, sa, dottore, adesso di fronte ad una situazione che prima mi avrebbe fatto perdere le staffe, mi si sarebbe chiusa la vena, le emozioni avrebbero preso il sopravvento in me, sono rimasto calmo, ma non è stato un calmo per cui mi sono trattenuto, è stato un calmo per cui ho iniziato a riflettere cosa avrei potuto fare, come avrei potuto comportarmi, come avrei potuto agire e ho scelto di fare una cosa diversa da come facevo perché sono riuscito a vedere in prospettiva che cosa sarebbe stato più utile, più funzionale per me e questa cosa mi ha dato una sensazione di tranquillità, una sensazione di potere, di controllo che invece non ho mai avuto. Ovviamente non sto parlando di persone o solo di persone che hanno scoppi di ira piuttosto che hanno un'emotività particolarmente accentuata, questo è solo un esempio, questo va bene per tutti, vale per tutti i pazienti che sviluppano e fanno psicoterapia questo ragionamento e il vero quindi superpotere che la psicoterapia aiuta a sviluppare proprio questo, cioè proprio la capacità di riuscire a muoversi su più piani contemporaneamente in cui non si ha solo il proprio punto di vista, non si ha proprio solo il punto di vista del protagonista ma si ha anche una visione panoramica della propria vita in modo tale da capire qual è il posto che si occupa nel mondo e nella traiettoria che si è scelto di assumere e come quindi poterla governare. E questo per quanto faccia comprendere anche l'importanza della responsabilità che ci si assume su noi stessi, al tempo stesso diventa anche estremamente rassicurante.